Il senale qualificato, Consorzio Revisione Valleogra, lo trovi a Schio e Malo. TG dell'Alto Vicentino, ben ritrovati in apertura. La notizia dell'arsenale dell'insospettabile di Valli del Pasubio, disoccupato, che teneva sotto casa addirittura 12 bombe cariche funzionanti. L'irruzione dei carabinieri, l'uomo è stato arrestato. Il servizio. Una collezione di armi da guerra che comprendeva 11 granate funzionanti e cariche, di cui due contenenti gas nervino e una bomba a mano tipo ananas della Seconda Guerra Mondiale. Un arsenale vero e proprio, raccolto probabilmente in anni e anni di ricerca. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Valli del Pasubio nel corso di un'attività di indagine. In manette con l'accusa di attenzione illegale di armi e munizionamento da guerra è finito un insospettabile disoccupato. Stefano Penzo, 36 anni, incensurato. Il deposito delle armi e delle bombe era nascosto in una specie di legnaia di pertinenza dell'abitazione. Ritrovate sciabole e armi di ogni tipo, da sparo ma anche da taglio, 25 in tutto, materiale che è stato ovviamente sequestrato. Penzo si è difeso dicendo di essere un appassionato di vecchie armi e di averle acquistate in passato per pura passione. Le bombe, che sarebbero potute esplodere in qualsiasi momento, sono state affidate agli artificieri. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Marano e il Consiglio Comunale che si è svolto ieri ha visto la discussione, le risposte da parte della maggioranza, le domande contenute da un'interpellanza di qualche giorno fa a firma del Consigliere di minoranza Eric Pretto in merito all'assunzione del nuovo addetto stampa. Per quel che riguarda l'impegno di spesa, dice oggi un comunicato del Comune, la cifra complessiva per l'ufficio stampa, sviluppo, piani e comunicazione e corso di formazione per la realizzazione e la gestione del blog, sono costati 11.000 euro contro i 15.000 euro impiegati nel 2009. L'incarico, sottolinea ancora l'amministrazione comunale, è annuale e non è stato previsto nessun impegno di spesa pluriennale. A proposito di Marano, si ritorna a parlare di Contrada Vianello, ma per dire che la regione ha bocciato la mozione a firma di Antonino Pipitone, consigliere d'Italia dei valori che chiedeva come la stessa intendeva intervenire per fermare il progetto della discarica. In un documento, il Movimento Salvaguardia Ambiente, si dice sballordito di tale esito. Ci spostiamo a Schio per parlare e smentire la notizia che nella fabbrica alta sorgerebbero dei negozi oppure un centro commerciale. Lo fa direttamente il sindaco dalla via che dice la novità invece è un'altra. Vediamo di cosa si tratta. Nessun centro commerciale, nessun negozio nella fabbrica alta. L'amministrazione comunale di Schio smentisce categoricamente la notizia e dice la vera novità è un'altra. Venerdì scorso è stato infatti firmato il documento che dà il via all'accessione al comune degli edifici dell'archeologia industriale come previsto nel piano di recupero. Un accordo che segna di fatto l'accessione a patrimonio pubblico della stessa fabbrica alta. La novità riguarda gli spazi esterni dell'area ex Lanerossi e con il documento siglato diventano di patrimonio del comune di Schio gli edifici della Francesco Rossi, la centrale idroelettrica Umberto I, la centrale termica e l'archivio della Lanerossi. Viene inoltre ceduto al comune incomodato d'uso lo spazio per la realizzazione del percorso ciclo pedonale della ex fabbrica Lora. È un passaggio che io definirei storico perché con questo atto d'annotaio la fabbrica alta assieme ad altri edifici dell'archeologia industriale interna di quest'area sono divenuti di proprietà della comunità di Schio. Questa è una cosa bellissima e molto importante. Un appuntamento giovedì alle 16.30 nella sala borsa di via Montello a Tiene, sede dell'ASCOM, un incontro informativo realizzato in collaborazione con Veneto Sviluppo sulle modalità per l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete. Ci vediamo tra pochissimo con le notizie dell'Ovest Vicentino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.